Riyadh, insomma ci sono dei grandi progetti, in più anche in Europa l'idea sarebbe quella di fare un campionato coinvolgendo le nazioni d'Europa con le filiari più importanti. Nel frattempo la gara è partita? Eh sì, partenza valida perché come vi dicevamo non c'è giro di riscaldamento, di allineamento, ma i piloti sono già pronti per il Via, quindi andiamo a vedere come andranno a delinearsi le posizioni con subito la bagarre per le prime posizioni con Marengo che è partito bene dalla seconda posizione in... Eh, gara due, gara due è una smart è tosta, diciamo. Che scortellate come giustamente nel turismo, vediamo, ecco che sfuntano le seconda... Oh, abbiamo un altro contatto, e qui attenzione, un testa-coda qui appunto... E Capra, Capra che si è girato per un contatto con Fuglio Ferri, credo, e c'è una macchina con un... Che Silvia Sellani si è girata, e questo è Ghirelli che è rimasto coinvolto nell'incidente, ma mi dispiace molto. Ghirelli che è il vincitore della gara di questa mattina, di gara 1 e quindi anche leader del campionato, Mentre qui intanto vediamo con il numero 10 Vassallo, vedete che cerca il sorpasso, andiamo a vedere il primo giro come si conclude Con la prima posizione di Lembo partito dalla pole, è riuscito a sfruttarla bene, poi Marengo, Pansanota, Longo, Ferri, Marchettino, Garbarino, Simoni, Vassallo, Lamarra A completare la top 10, questa è la situazione, vedete anche la Uglia Ah, lì già si erano toccati, è lì che si è preso con... Contatto... Sì, Coltani... Coltani, con, credo, con, appunto, Ghirelli, eh, non vorrei sbagliarmi, però quello è il 24... No, 22, con Silvia Sellani Con Silvia Sellani, quindi Coltani e Silvia Sellani in contatto, in bagarre... E poi, ok, e poi erano portanti, però poi Silvia gli ha partita la macchina, è successo... Questo è il contatto in cui, invece, vedevamo coinvolti, credo... Ecco, questo è il generoso appunto da... Eh sì, qui abbiamo avuto Ghirelli, vedete, che è andato a finire sulla collinetta, però adesso... Un altro fuori lì... Un altro fuori lì... Di nuovo sull'Aipe, invece, qui abbiamo un'uscita con, attenzione, Aglie 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 Abbiamo visto per... abbiamo visto la Marra, che è un... Un altro fuori lì... Un altro fuori lì...